Siamo con Rossella Vaudre, storico dell'arte, già sovrintendente del Polo Museale Romano e autrice del volume Uttet, grandi opere, Caravaggio, che oggi presentiamo. Caravaggio è un personaggio molto noto, molto amato. A settembre di quest'anno Palazzo Reale a Milano dedicherà a Caravaggio una grande mostra dove verranno anche illustrati i risultati dell'impulso che gli studi su Caravaggio hanno avuto soprattutto a partire dal 2010, quando c'è stato il quattrocentesimo anniversario della morte dell'artista. La prima domanda che rivolgiamo all'attressa Vaudre è perché è così amato anche dai non esperti di storia dell'arte il nostro Caravaggio? C'è un maledetto o c'è dell'altro? Sì, hai ragione. Oggi Caravaggio è forse l'artista più amato a livello mondiale di tutta la storia dell'arte. Indubbiamente una parte significativa c'era la sua storia, naturalmente una storia difficile, tormentata, piena di drammi, di uccisioni, di violenza, sicuramente uno spirito così tormentato è più vicino ai nostri giorni piuttosto che, non so, un artista come Raffaello che è, diciamo, diverso nella sua splendida aulicità. Fra le più straordinarie novità introdotte da Caravaggio nella pittura del suo tempo è sicuramente quella della rappresentazione della realtà. La rappresentazione della realtà che non è più idealizzata, come facevano tutti i suoi contemporanei, ma lui rappresenta la realtà così com'è, senza alcun abbellimento, senza alcuna idealizzazione e quindi troviamo le rughe, troviamo i piedi sporchi, troviamo le espressioni più anche degradate, le sue modelle che spesso erano le sue amiche prostitute, cioè è proprio un'attenzione al dato reale che effettivamente è una delle caratteristiche principali del suo modo di dipingere. Secondo me una delle cose più importanti, a di là della sua qualità eccelsa, perché questa naturalmente, partiamo da un livello qualitativo sommo, in realtà c'è qualche altra cosa, che è il modo con cui lui costruisce i suoi quadri. Intanto sono quadri dove le figure hanno lo stesso rapporto spaziale nostro, cioè sono delle figure che hanno le nostre stesse dimensioni, quindi parto un processo immediato di identificazione, cioè quando vediamo in un quadro delle figure che sono uguali a noi, proprio dal punto di vista proporzionale. Poi costruisce le sue scene tutte in primo piano, ci vengono quasi addosso queste sue scene e lui mette sempre nei suoi quadri un elemento che sporge dal quadro, quasi appunto a spezzare la divisione fra spazio reale e spazio dipinto. Quindi questo è un altro motivo che ci invita in qualche modo ad entrare nella scena. Poi questi fondi scuri che lui sempre fa, che proiettano ancora di più le figure, le scene, verso il primo piano, e inoltre raffigura sempre il culmine dell'azione. Per esempio prendiamo la Giuditta che taglia la testa di Oloferne, di solito veniva raffigurata con Giuditta con la testa di Oloferne, almeno fino a quel momento, che sta lontana dalla tenda, insomma in un momento successivo al dramma. Invece qui vediamo che Caravaggio coglie proprio la scena nel momento della sua massima drammaticità. Cioè Giuditta sta tagliando la testa di Oloferne, cioè sta inferendo il colpo mortale all'Oloferne, il quale è già morto perché ha gli occhi rivolti all'indietro, però le braccia ancora si attaccano violentamente al collo, la bocca urla. Cioè quindi è proprio il momento, ha riuscito a raffigurare proprio quello che è il momento forse più temuto da ogni uomo, cioè il momento del trapasso tra la vita e la morte. Quindi è sicuramente un elemento che colpisce questi, tra l'altro hanno studiato anche questi impressionanti schizzi di sangue che sono assolutamente veri. Hanno fatto degli studi proprio, tra l'altro, sulle decapitazioni reali avvenute in questi ultimi decenni e assolutamente questo è quello che succede quando avviene una decapitazione. Cioè questi schizzi sono reali ed è probabile che lui l'abbia visti in una delle tante esecuzioni che avvenivano a Roma in quel tempo, quindi lui evidentemente era in prima fila a studiare come avvenivano certi fatti particolarmente efferati e tragici. Poi naturalmente c'è l'elemento fondamentale che è quello della luce, che non è più quello universale utilizzato fino a quel momento, cioè dove tutto veniva illuminato nello stesso modo, ma c'è nei suoi quadri una fonte precisa e diretta, di solito viene da sinistra in alto, che illumina solo quello che a lui interessa, cioè le figure centrali di ogni dipinto sono illuminate da questa luce fortissima che ovviamente crea dei contrasti naturalmente con l'ombra, ma sicuramente le fa emergere dall'ombra. Ed è stato pensato che questa fosse una raffigurazione della luce e della grazia, siamo in tempi di piena controriforma, quindi non c'è nulla di strano che anche Caravaggio, così discorso dal punto di vista della persona, in realtà fosse pienamente aderente a questi principi e quindi la sua luce fosse in realtà la luce della grazia divina che era negata da tutto Lutero e da tutta la riforma protestante e che luce divina che estrae dall'ombra del peccato naturalmente i personaggi principali delle sue opere.